Ciao ragazzi, ciao a tutti! Io sono Alice Coppini e a novembre ci vedremo a scrittori in città per parlare del fumetto che ho scritto e illustrato che si intitola La mia strana amica pubblicato da Tunue. Il fumetto parla di questa bambina di nome Emma che trascorre tutti i suoi pomeriggi a casa della nonna Lina. La nonna però è una nonna un po' annoiosetta e che le dice cosa deve fare, cosa non deve fare e fa i compiti e non giocare ai videogiochi e non correre. Insomma forse non sono i pomeriggi più divertenti per Emma e in una giornata particolarmente noiosa e particolarmente piovosa la bambina decide di salire in soffitta e lì in mezzo a oggetti vecchi, polverosi e dimenticati trova una scatola contenente tantissime fotografie ma all'improvviso un fulmine colpisce la casa e Emma si ritrova catapultata nel passato e lì incontra una bambina di nome Andreina che assomiglia moltissimo a una delle foto che Emma ha trovato in soffitta. Quindi chi è Andreina? Come mai la nonna aveva una foto di lei e come farà Emma a ritornare nel presente? Lo scopriremo insieme a novembre. Quindi ci vediamo a novembre, ciao!